allora l'ottimizzazione è finita passiamo ad horizon cominciamo siamo angelo quello si può anche organizzare non sarebbe male allora un attimo solo che io volevo potenziare questo a farlo a creazioni devo un attimo riprendere però la mano con i tasti questo non serve male questo fai danni da fuoco pure allora come vi dicevo per le munizioni parco di precisione questi cavi qua mi mancano sono comunissimi in realtà quindi non capisco come mai mi manca sta cosa mi sa che dovrò usare un po di questo tipo di freccia qua in modo da avere più risorse di tipo comune si dovrebbe darmi i cavi vediamo anche se anche quelle vengono fatti con i cavi quindi un po un serpente che si morde la coda dovrò uccidere con l'altro arco probabilmente è devastante già che si chiami così ok le abilità aumentiamo questa perché vorrei raggiungere questa qua delle bobine per cambiarle per non buttarle che ne ho piazzate alcune molto buone sulle armi attualmente quindi non vorrei buttarle proprio caso dovessi cambiare armi e in più ci serve razziare un po di più le macchine proprio perché mi servono quei cavi ah ma tu angelo dicevi in live e in live non lo so se possiamo farla quella cosa sarebbe un carico di rete troppo grande forse per il nostro per la nostra live quindi che ci vediamo in privato quello lo possiamo fare però per la live è un po difficile allora le missioni da fare abbiamo le principali che questa qua cioè Olin ci ha dato qualche indizio sul fatto che ci sia una donna insomma che dobbiamo trovare presumibilmente nostra madre perché è la donna che ci somiglia ed è questa qua che sarebbe qua giù un po lontano poi di confine è quello che dicevo io la sorella di Erendersa dobbiamo trovarla quindi dobbiamo raggiungere rupestria che sarebbe aspetta mi fa vedere sempre quella ok questo così dall'altro lato rispetto però sempre lontano c'è poi quando faccio in quel modo mi si incoglionisce tutto secondarie queste qua ancora non le possiamo fare sono di un livello troppo alto questa qua mi sembra difficilotta pure e in quella cava dovrebbero esserci delle macchine belle cicciotte credo questa del campo Banuk mi incuriosisce tanto per capire perché siano docili le macchine e poi c'è Eredita Fatale e dobbiamo liberare questa tenuta dalle macchine sedute praticamente allora questa qua dove si trova? mettiamo un po ah è lontana lontana mi incuriosisce tantissimo questa ragazzi però è tanto lontana nel senso pur partendo da qua da questo falo qui e non è una missione principale allora direi secondo me quella della questa qua ci potrebbe portare a una di quelle macchine sotterranee lì quelle dove ci sono i mostri più cattivi quindi non lo so altrimenti dobbiamo continuare questa qua non lo so però questa te la dà di livello 14 in teoria dovrebbe essere più semplice proviamo a fare questa male che ci va affrontiamo un mostro brutto e cattivo e ci sblocca un override però quindi sarebbe anche una cosa buona ok facciamo questa e dobbiamo andare non l'ho selezionata se l'ho selezionata qua c'è un villaggio qua c'è il falò a fork questo deve essere dove Nassan era supposed to check in allora lo avevamo analizzato già devo anche rifare familiarità con i tassi perché non non l'avevo analizzato bene di là ma perché c'ho la che c'ho non avevo messo nessun segno non l'ho No, no. I don't get it. Who is she? Her name is Elizabeth Sobeck. You, spying through my focus again? Well, go on. What do you know about her? Stay on your present course, and before long, you'll know her as well as I do. Maybe better, but be wary. Maker's end is crawling with eclipse troops. To help you deal with them, I've left some useful equipment just outside the ruins. Your focus will show the location. Quindi, è una zona cattiva. Qua sono amici o nemici? Nemici? Madonna per quanto non mi hanno visto. Ah, ieri non ho risposto a Ivan che parlava di The Space Tracing 3 in co-op. Sì, in effetti sarebbe perfetto portarlo su un canale come il nostro. Come dicevamo pure di Resident Evil 5. Ah, mi piacerebbe perché è l'unico che non ho giocato dei tre. Quarto, vabbè, Extraction, non so come. Secondo me non è granché, però lo vedrò poi. Non è proprio un quarto, ma è un... Uno spin-off, secondo me. Evitare le macchine, anche se dovrei ucciderne qualcuna, ma queste cose sono troppo cicciotte. Mi servono... Eh, il produzione mi serve. Eh, dobbiamo vedere, Ivan. Valutiamo un po'. Lascio le pelli che mi servono. Oh, ottimo. Eh, per lunedì non so. Perché in realtà dovrei fare... Dovrei fare Dead Space lunedì. Sì, penso che comunque Dead Space pot dovrebbe piacervi il doppio rispetto alla scorsa live. Io l'ho provato un po' e... Era spettacolare, stra-fluido. Non c'era tearing, eccetera, eccetera. Non c'era perminta. le macchine mi danno solo frammenti del space la sera si si del space lo facciamo sempre la sera sembra più all'atmosfera giusta diciamo c'è gente la donna ho solo tre però vabbè devo che parte devo andare di là adesso mi segna di là allora fatemi capire ah devo fare tutto il giro vabbè qua c'è un accampamento facciamo il giro di là una missione ok saranno i tizi che pensavo fossero nemici eccolo andiamo a vedere cosa vuole ah ok questo qua è per liberare l'accampamento con lui volendo potremmo anche già farlo eh Antonio se lo faccio la sera facciano sempre per le 23 23 30 comunque penso che martedì una piccola live la facciamo lo stesso anche se è festivo non i've waited for you time passing pulls the anticipation tight as wire ah how many has it been now i don't keep count no don't keep count sometimes i just don't get you are you like us or a little different hopefully a little Ok, dobbiamo far fuori questi qua. Facciamo l'accampamento così. Eh sì, l'horror di sera va bene. No ma come dicevo sarà spettacolare la prossima, ho provato pure io, veramente. Poi Daniel ha giocato con la sensibilità al massimo, perché con la patch che abbiamo applicato c'era un problema. Adesso invece la sensibilità sarà giusta, quindi sarà più facile mirare. Per quanto può essere facile. Insomma non vedo l'ora anch'io. Everything's sharp and looming in the rain. Io non lo prendo. Troppo lontano. Ok. Potrebbe arrivare qua? Bene. Grazie per aver guardato. oh oh Oh, è salito il sospetto? Ma da quanti cacchio sono di colpo? Vieni via dal campo, tizio! C'è un'altra entrata, vedete? Scusa, ma io la sto mirando, a quella distanza non arrivano proprio i colpi? Non ci senti a mei... Segui che spaziamo, posso sentire a mei? Non ci sentiamo, non ci sentiamo. Con noi! Sì! Allora, cerchiamo di capire un attimo se ci trovano adesso tutti quanti. C'è sempre uno qua. Mi piacciono le azioni stealth, cioè entrare e sparare così non è lo stesso. Grazie. 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 Grazie a nascondermi. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 Buongiorno! ti vende un mucchio di sassi il la 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 il carccio devo fare tutto il giro di qua per trovare nini intanto raccolgo qualche risorsa io sto morendo tipo che ci pensano effettivamente martedì è effettivo eventualmente simula dobbiamo fare o no queste piccole momenti sono riuscanti non sono? potrebbe essere la cosa che mi ha detto Ah, che glimbi di loro in il loro occhio, proprio quando la nuova di morte passa a loro. Non so, c'è lì. Cosa, Nel, se ti fai freddo di bandit, c'è un gruppo chiamato The Eclipse. C'è una situazione politica. C'è murdere, e c'è un gruppo di macchini. C'è un po' più di politica. Non mi piace per essere solo. Inoltre, non potremmo per quanto riguarda la Shadowcarja, se sei in per la kille. Abbiamo arrivato un lungo da Noraland. C'è dove sei, Nel? C'è un po' più vicino. E, grazie, è vero. Amboschi, paesi, anche corruzione macchina. Le mortali, le mortali, si sono scopriano per accettare le mie arros. Ma già tu avessi questo. Tu stai passando sul pietro della vita e della morte. Lo so. Certo. È una storia lunga. Con molti semplici, spero. È una storia lunga. C'è stato un po' più grande da occhiamoector Water. Ma già è una storia lunga di questo. Ma già, è una storia lunga di questo. È una storia lunga di cosa. È una storia lunga di questa esiglia. E uno è il po' più grande della vita. È una storia lunga di questo. È una storia lunga, di questo. È una storia lunga. c'è qualcosa che noi non sappiamo ok i capelli vanno in bocca ok qua abbiamo fatto quindi ci siamo liberati anche di un campo di banditi adesso possiamo proseguire ok 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 Grazie a tutti. Grazie, grazie. Il Discord è preso, vediamo cosa ha. Le paccole sono pieni. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 Il nostro vestito però è già al completo. Adesso sono dei cavi che mi servivano per questo. Ok, per adesso non produco più niente. Ok, quindi dovrei andare l'acqua. Bene. Mi chiedo se gli overwrite te li fa sbloccare tutti con la storia o devi esplorare tu per trovarli tutti? Non mi ha mai visto? Ok. È un po' difficile questa. Però la strada da fare credo sia questa, quindi non posso andare di qua. Ok. Anche provare però non... Aspettare che ritorni. Devo andare in alto o...? Sì, Alan, tu su Horizon non puoi parlare. C'è il tipo di frecce che usi. Io sto usando... Nel senso, se vuoi dei suggerimenti, Daniela, penso che li accetti molto. Toglimi questo. Io sto usando queste qua contro gli umani. Queste contro gli animali. Queste contro le macchine che prendono danno dal fuoco. Queste qua contro le macchine più ciccione. Da lontano. Però non ho capito. Bisogna andare... Non bisogna andare da sopra, giusto? Sto sotto le rovine. Non so se devo passare per forza da quest'incubo che è questa zona qui. O posso andare da dietro? Bene, Angelo. Allora, buona cena a te. E a dopo. Ciao, Angelo. A dopo. Buona cena. A te dei suggerimenti, Antonio? Penso che Daniela li possa considerare. Sì. Come no? Di solito lo sai che non facciamo proprio quella cosa di backseat gaming che qualsiasi suggerimento va bene. Perché poi a volte si finisce pure per spoilerare le meccaniche di gioco. No, magari uno se le vede piano piano. Però con questo gioco qui che Daniela ha già fatto un bel po' di ore potrebbe essere tranquillamente, penso. Allora, ti faccio vedere, Alan. Ovviamente senza svelare il finale e cose così. Io sto usando queste qui per gli umani, che con un colpo in testa li butti giù. Con queste non tutti gli umani vanno giù con un colpo in testa, perché alcuni sono più corazzati, quindi... Quindi queste qua le uso per gli animali, queste per le macchine che subiscono danno dal fuoco, Queste qua in genere le uso per quelli più grossi che, insomma... Me li tengo a distanza e li colpisco con l'arco di precisione. Come sto zitto, Antonio? Ma qua non so se devo andare attraverso sto posto tanto brutto o potrei anche fare il giro. Mamma mia che ho visto là. Non piparle quella macchina? Cosa è possibile fare il giro, capito? Quello è... Questa cosa qua non l'ho capita. Cioè, se posso evitare qua tutta sta zona qua... Oppure no? Eh, come dice il cuore... Il cuore mi dice di scappare. Antonio, dovete scrivere. La live è fatta apposta, come diciamo sempre. Quindi se vuoi dare suggerimenti, so già che conosci tu il limite... Delle cose che sono positive e le cose invece che poi vanno a rovinare l'esperienza del gioco. Perché ne capisci dei giochi, quindi mi fido. Da qua non so se si può... Non mi fa zoomare. Da qua non so se si può andare. Poi come vedete spesso Daniela vi chiede cosa potrei fare qua. E lì è proprio una domanda alla chat. Vado. Proviamo a farla da destra. Eh, volevo già provarci prima però dico bah forse... C'era una sentinella qua a destra, ma quella la facciamo fuori subito. Let's get this over with. Ebbene. Puoi dire cose della macchina. Eh sì, devi valutare bene l'approccio. In quel... Diciamo in quel senso è strategico. Qua dicevi no, Alan? Qua devo andare ancora più di qua. Credo. Ma qua di... Qua ci dovrebbe essere un recipiente. Adesso vediamo dov'è. Appuriamo che non ci sia nessuno. Appuriamo che non ci sia nessuno. Prendono dei suoni metallici fortissimi. Dov'è sta fuori sto coso? Quello è fuori. Non l'abbia visto. I ratti? No, no, no. Che schifo. Io ho paura pure delle mosche. Figurati dei ratti. No, devo andare... Tra poco mi trovo tipo fuori mappa. Il gioco mi dice no, non puoi passare. Infatti. No, non puoi passare. Tutti. Tr передai. Oddio. Oddio quanto è difficile senza allertare tutto e tutti. Allora, vediamo dove posso nascondermi. Ah, a scendere devo scendere per forza. Ok, ed è uno in meno. Vediamo se riesco ad uccidere. Pure se è sentinella forse posso passare senza dover fare il devasto. Penso di dover uccidere tutti, cazzarola. Oh, cazzarola, è dall'altra parte che devo andare, cioè da tutt'altra parte, no? Magari passare da qua. Dovevo fare per forza tutto il giro. Ecco qua. Oh, cazzo, ce n'è un altro di là. Via, via. No, no, vai via. Non mi hai vista. Me ne vado. Ah, scusa, adesso che li ho tirati di qua. Me ne vado dall'altra parte. E aveva ragione, bisogna essere pazienti. Ok. Quindi abbiamo sbagliato approccio. Ora mi fa passare. Da questa parte era meglio. Biggerbo sta facendo il tifo con 50 bit. Rieccomi ragazzi, vi sono mancato. Mi sono assentato per un boccone. Non vedo l'ora di sorseggiare a colazione bevande calde con la vostra meravigliosa tazza. Il prima possibile subquipe maggiore di 4. Maggiore di 4 cosa? Grazie, Ivan. Grazie, Ivan, ancora? Che hai mangiato, Ivan? Che qua Angelo dice sempre cosa mangia, insomma, ci fa piacere. Però vogliamo sentire anche altri, sì, che sono curiosi. Sono curiosi. Un po' di 4 invece di minore di 3, che è il cuoricino. La piastra e verdure. Diciamo che... Ne so qualcosa di questo tipo di alimentazione. Anche se è un lontano ricordo ormai, però... Nel senso, no, vabbè. La Daniela, insomma, si mangia sempre bene. Pure leggero. Anche roba del nostro orto, quindi... Però stavo dicendo che... A tempo fa... Insomma, andando pure in palestra dovevo mangiare pulito. Altrimenti poi, quando andavo in palestra, mi sentivo quasi male. Ah, c'è un rilievo. Mi sentono, quindi, da qua. Mi devo avvicinare di più. Ah! Ah, qua c'è la macchina quella più grande. Magari poi gli lancio i cavi e la... La chiappo proprio. Dio che ha visto cosa? C'è uno in allerta, lì. Andiamo a ammazzarli tutti, ragazzi. Glad no-one saw that. Ciao! 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 Ah ecco la testolina Ok non vedevo bene Ok Ed è un altro Piano piano Cazzo grida Ha gridato fortissimo Ah sì sì Ma se ne è andato dall'altro lato Invece di venire lì qua E poi venga Qua c'è la macchina quella più cicciotta La devo lasciare per ultima E ci metterò un po' di più ad ucciderlo Cazzi non vedo bene Questa L'illuminazione ridotta Eh sì c'è buio un po' Sì c'è l'illuminazione ridotta E un po' è un problema a volte Ci sono alcune aree che sono veramente buie Posso io vado tipo Dovevo andare sopra C'è l'illuminazione ridotta qui altrimenti avrebbe allertato tutti quanti me ne sono rimasti? pochi l'è lì e qua lì ce n'è uno che non riesco a vedere purtroppo ah è quello con il coso di vampa sulla schiena non riesco a far fuori quella macchina prima che qualcuno mi veda ok non riesco a far fuori venga lì qua poi dovrà girarsi la Giovanni prego venga velocemente per cortesia si avvicina abbastanza sto maledetto e appena si gira l'ho uscito vai dai ci hai provato Ma mi dite che me lo fa fare il corpo silenzioso su sto coso Oh Grazie a tutti Quante volte devo colpirlo lì Dovevo prendere forse uno di quegli elixir per il fuoco, per i danni da fuoco Eh, non dietro il patto, che maledetto Non ci credo Non ci credo Ho cercato quattro colpi All right Ok Mi faccio le frecce Ti pulisco il posto e andiamo avanti Facciamo assaltare Ah, non ho spazio Vediamo un attimo Troppo legno Ah, due tipi di zaini, cioè? Cosa intendi? Siccome la bobbina credo che siano queste il problema I due uguali non ci servono Ah, ok, ok Allora Ho afferrato il vol Però adesso va bene così Tipo in caso Andiamo Ho ucciso gli altri Da notare Che durante lo scontro Con la macchina Grazie Gianluca Praticamente si erano allertati i tizi Dell'altro van posto Quindi qua Se non avessi prima fatto fuori tutti Finiva che arrivavano anche quelli Ma il vetro a cosa serve esattamente? Non ricordo Mi pare che Aaron me l'aveva detto Ma non ricordo Mi piace di due ore fa Ah, forse si è ripetuto Possibile Torna del bug Quanto pare Spero non li faccia ciclare di nuovo da capo Spero di nuovo Si sente qualcosa di molto rumoroso Nelle notifiche diceva circa un minuto fa Forse non ti prendeva bene la linea Adesso l'ha registrato il live Sì, il petro Alan Qua si sente un casino allucinante Spero siano suoni ambientali Non voglio morire An explosion Spero di nuovo Sperare là Speratemi in pace Speratemi in pace Ma c'è solo quello che fa questo casino E' solo quel coso che fa casino Sperata che succederanno cose brutte qua Interessante Interessante Sì, guarda qui sotto! ROTATE CURRENT! AND FIRE! ROTATE CURRENT! OPERATIONS! TIME TO GET IT MOVING! AND BE QUICK ABOUT IT! OKAY! NO DAYDREAMING! SOON THIS DEMON WILL BE UP AND RUNNING! ANOTHER DEATHBRINGER TO FILL OUT THE RANKS! PONCO DIVE IT TO FIRE THEM? HAS TO BE ONE OF THE DEATHBRINGERS WE WILL TALK ABOUT FIRE! I WILL NEVER GET INTO THAT TOWER INLESS I DESTROY THAT THING FIRST! Eh non ho capito Devo far fuori prima lo sterminatore E' un po' di E' un po' di Ahia! 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 Non ce n'ho capito niente. Ok, non devo andare prima sullo Serminatorio. Che massacro proprio, veramente. Non posso andare qua in alto io invece di andare in basso. Eh no, perché devo triggerare la cazzi. Non posso andare in quella torre, se non lo destruirò prima. Focus, it stopped working. Oddio no, non mi trova il tasto. Ok. Ok. Ok, ho trovato il punto c'è, bu? Quello è troppo lontano. Ok. Ciao Angelo. Eh, me lo distrutto. Ok. Ah, ce ne sono, ce ne un altro. Io sono troppo diretta, dovevo sfruttare un po' le... Di più le altezze dovevo sfruttare. Prima mi prendo tutte le cose delle cose, con calma. Con il cavo, per esempio, che mi serve. Ahia. Avevo finito di nuovo il cavo. Eh, so che la lancio per gli scontri ravvicinati, però... La trovo lenta. A volte è lentissima. Devo... Devo anche migliorarla, cioè devo... Devo mettere un po' di punti abilità nel... Per quanto riguarda... Per quanto riguarda l'attacco corpo a corpo. Infatti non mi aspettavo di metterlo giù con un colpo solo. Se sai, veniva spontaneo... Sparare all'arma, alla sua arma principale. Invece era uno dei ganci giù che andava... La flotta inizia. E io devo perlustrare i corpi. E io devo perlustrare i corpi. Let's see what you have to say. What? What is this? The Entity lives. Unacceptable. 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 What the hell was that? Hades? Hey! M-mysterious stranger! Did you see that? No answer, huh? Figures. Things just keep getting stranger. I need to find a way inside the tower. This house is wonderful. Un botto di cose. Aspettate un attimo, eh. Eh, questo poi dobbiamo metterlo all'arco. It looks tight, but I can't squeeze through. Caracroft, ce sei tu? Hold for identi-scan. One of these again. Genetic profile confirmed. Entry authorized. Greetings, Dr. Sobak. Please, step inside. Non sarà mica un clone? C'è punto. Grazie a tutti Potremmo ricordare i tasti E dobbiamo andare di là E io quindi guardo di qua Escritto La prima parola non riesco a capire Sì 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 Questa è più grande che una tribù. Quindi... loro hanno fatto macchine e... dispositivi. Penso che queste cose erano comuni in loro mondo. ... 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 Sì, sì. Sento già dei rumorini strani. Sì, sì. Sì, sì. Sento che la missione ne è tra pochissimo. Sì, sì. Andiamo a cibarci poi. Ok, ho lasciato. Ok, le possiamo. Questo fatto che mi diano tutte ste cose mi sta preoccupando. Mi pare che non ci sia altro in questa stanza. Non ci sono... Oh, no, hiro. Bella, no hiro. Bella campo di grano. Allora su Zero Dawn ce l'hanno un po' di quelli della chat. Sì. Ok. Io sto esplorando molto lentamente, però. E' un gran bel gioco. E l'ha detto appena l'ha tolto il caps lock. E' per play? E' questa qua invece è l'edizione PC. Che c'è... Hai cominciato da poco, tu? Relativamente da poco, anche su PC. Ah, no, 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 non c'è bisogno di scelerare. Chi ne capisci di videogiochi non lo fa. Eh, sono rimasta... Guardate dove sono rimasta. Oh, no, santi. Oh, no, infatti stavo guardando e non capivo. Poi ho sentito il suono perché sto guardando la live. Adesso non posso andare di là, ma io voglio andare di là. Oh, grazie! Oh, grazie mille! Vediamo se riesco a... Incoglionire il gioco. Grazie mille per il follow, benvenuto. Oh, ce l'ho fatta. Per il follow. Eh. Fatta di rimanere qua su. Però non serve a niente rimanere qua su, devo andare giù. Mezzo infartino poco riuscito nel mio caso perché mi sono messa nell'angolino. Allora, se si sveglia e mi fa bauming, cazzo. Ah, devo andare su, quindi... Visto che devo andare su, allora scendo un attimo giù. Ma malissimo. Allora. Ah. Questo è all'inizio. Da dove siamo venuti, no? Eh sì, mannaggia. Non ho riconosciuto il posto, eh. Ok. Antonio si chiede chi sia Campo di Grano. L'abbiamo appena conosciuto, cioè... Nuovo. L'ho buttata a caso. L'unica parte dove ho paura di cadere è su Apex. Zitto, zitto, non ricordarmelo. No, non dico niente. Che tristezza con la partita di oggi, veramente. Ah, ma io ho fatto per andare a sinistra, non a... Cioè, a destra, non a sinistra. Oh, brava. Mamma mia, che atleta. È quella di Andrè. La FSP-5 Copesh provides a one-size-fits-all solution. Sto andando a casa. Chi sta? Non perdermi cose. Sì, sì, è la modalità storia, la... la storia principale. Quindi, è andata abbastanza avanti, adesso. The ACA-3 Scarab combines conventional and information warfare capabilities in one package. Designed for high-speed all-terrain reconnaissance. It boasts the world's highest survivability rating of any scout class autonomous agent. Maybe it's the Scarab's emergency biomass conversion systems that ensure it always makes it back to base. Even if fuel supply lines have been interdicted. Or maybe it's the Scarab's ability to slave enemy robots to its own network. Now that's force multiplication. Add a prehensile manipulator arm that can handle a host of functions. From 360-degree less lethal riot management to surgical repairs of allied chariot line models. And you've got the workhorse of any cutting-edge peacekeeping fleet. The Corruptor. Slave enemy robots to its own network. It sounds like it's talking about how it corrupts machines. Ok. Eh sì, il campo il campo ha detto che l'ha appena preso e lo vuole giocare quindi è comprensibile che se lo giochi bene prima. Ho un po' fame ma sono curiosissima di... esplorare questa zona. Eh, questo ti stavo spiegando adesso che l'abbiamo messo in inglese perché è una nostra abitudine in molti giochi. Ieri sera abbiamo avuto un esempio del perché. Abbiamo messo Dead Space con l'auto italiano e ci siamo resi conto che c'era un doppiaggio che praticamente un doppiatore leggeva non aveva nessuna espressione. Tentiti amaramente di quello messo in italiano. Molti hanno detto ah ecco perché lo fate ho capito adesso. io penso che in questo gioco comunque il doppiaggio sia fatto bene uno di quelli fatti bene lo so a me in inglese piace molto però a me in inglese si piace un po' di più perché l'ha scelto lo sviluppatore tipo di voce insomma l'attore se le planti possono trovare un modo di sbagliare qui credo che posso anche lo diavolo fai donna aspetta andiamo pure qua? allora no io devo andare su però da guardare un attimo qua no? ho temuto per un attimo di cadere giù nel vuoto e morirci eh quando scrivo le maiuscole abbiamo Nightbot che è un bot automatico che blocca il maiuscolo aloi è una parkourista lui non riesce a salire nemmeno sul letto ha detto sì il campo dice che non riesce a salire neanche sul letto e aloi fa tutte queste cose siamo in due siamo in due tranquillo ma dopo Gianluca? fermati fermati ok eh se noi ci andiamo a quest'ora di solito perché siamo dei dei te dei te esatto di terrens snow it's not getting any warmer out here to di 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 Allora devo andare Ok campo allora dopo Ah è partita una raffle con l'esclamativo join Ne torniamo anche più tardi ragazzi Sì noi ci siamo poi alle 23.30 di nuovo Due live al giorno facciamo Cambiamo pure giochi quindi Guardate pure le nostre playlist C'è Alan Contro tutti e tutti Maria ha avuto paura di Dead Space Secondo me per Maria è un certo orario E poi si fa tardi e deve dormire Madonna mia mi sta facendo venire l'imparto sto gioco Andare fino a su Può capitare Mi guardo pure gli altri piani So che potrei andare direttamente su Però Giusto c'è Poi Dead Space è un gioco che fa venire bei sogni di solito Ah Sono come se si fosse fatta male Ma non è così Sei abituata a Silent Hill quindi anche meglio Per me Silent Hill è il migliore Silent Hill 2 specialmente Forget about traveling light Mi sono un attimo persa Dove devo andare Non ciò di cadere sei impazzito E non c'è Allora io non vorrei fare una stronzata Si aggrappa O si butta giù Ok 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 La strada è più complicata La strada è più Tipo questi Tipo questi Fermati Daniele Diceva Alan Ok No Qua Devo tornare su Ok Ah si va proprio sopra Devo andare di qua Aspetta C'è qualcosa Non mi dica In alto c'è la batteria Aspetta Ti butto giù Poi ti fai veramente Una nemica potente A molti single player Ti piace Grazie Alan Non avevo visto gli appigli Grazie mille Ho trovato la batteria Dai Un quarto d'ora Però a scendere Ok Ok Aspettate che guardiamo Da questa parte Cosa c'è Ci sono ologrammi O cose così Ok La voce sintetica L'hanno fatta Tappandosi il naso Pensate si All'inizio Mi faceva quasi ridere Elisabet Good to It's been years Where's your legal team Ted No need I dropped all 18 lawsuits The moment you landed I assume your data Confirms us All right This promise is to be interesting Perhaps we could have lunch Brought in You know Get reacquainted I know you Ted You screwed something up Something big Or you wouldn't have eaten The crow necessary To get me here So spit it out There's A glitch In the chariot line You're killer robots Peacekeepers Yes Those So shut them down Obviously Liz We would If we could They're not responding Are you telling me A swarm has gone rogue Ted It's worse than that Show me the data then And we'll take that lunch Alone Ted Farrow brought Elizabeth Sobeck here But they hated each other Another thing Has been recovered This Isn't a glitch It's a catastrophe Fully aware It's bad Bad? Jesus, Liz It's not bad Ted It's apocalyptic You built a line Of killer robots Peacekeepers That consume biomass As fuel In emergencies And you made them Capable of self-replication Limited Self-manufacture Controlled Not anymore The glitch Severed Chain of command The only nation This swarm answers to Now is itself You think I did Everything else Is just food And at the rate It's replicating Ted It will strip The earth bare In 15 months We're not talking Fall of civilization We're talking Extinction I get it, Liz So how do I Stop it While it's contained It's not contained It can't be You know what I mean Right Before the truth Gets out You mean Liz, I will do Anything you say Keep working it And whatever you Recommend I'll do I'm gonna hold You to that Ted The faro robots Threaded all life On earth But somehow She defeated them The world of the old ones Fell but life Went on Or we wouldn't be here A final thero Has been Recoved Sembra un luogo remoto, una montagna exacta. Per me hai dato quella sensazione. Ma questo? Questo? Quando ti ho chiesto di trovare una cura, non ho esperto di essere più vero che la malattia. Non è Ted. Può essere Grimm, ma è la nostra sola chance. Ora signare la proposta. Signi, non posso signare. Sì, puoi. Lì, non posso signare la proposta. Hai una scuola, Ted. Lo so. Io parlo con te da un VTOL enroute a U.S. Robot Command. In 15 minuti, metto General Harris e la resta del Joint Chiefs. W-what? Voi stai freddo? Voi? Voi. 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 Veval Plaza. Voi. Voi. X. Voi. Detecto. Express lift open. ok sto cercando di capire bene quindi lui crea cioè lui aveva creato questi robot per l'ambito militare poi c'è un glitch per cui prendono una coscienza in sé si auto riproducono e insomma alla terminator no? kinet tipo non ho ben capito cosa ha proposto lei cioè cosa abbia proposto lei cioè ho proposto di creare tipo una zona contenitiva in cui ha buttato che ne so dei cloni umani non lo so mi sta venendo in mente una cosa di questo tipo però vabbè capiremo un po' più avanti poi Daniela che li pissa Daniela che li pissa mi ammazza stavo leggendo cercavo di capire anche io non lo so anche io non lo so sono le scopri che hai già fatto, Aloy. Mi aspettavo più di te. Quindi, hai una faccia. Hai un nome per farlo? Di tutte le domande che potete spiegare adesso, è quella che ti chiedi. Mi sono passato un decadito cercando le ruine dei vecchi, cercando di risolvere il misterio di quello che è stato fatto a loro. Forse anni, mi sono pensato che i roboti ferali hanno distruttato questa civilizzazione, ma non potrei confermarela. E in minuti, ti scoprivi più di un'idea antica che ho in una vita, e ciò che vuoi sapere è il mio nome? Silenzio. E' il mio nome. Ora, perché provi a cercare un'altra domanda? Al qualcosa meno triviale. Certamente, lei era l'unica che poteva scoprire tutto questo, perché c'era il riconoscimento facciale, quindi nessuno poteva arrivarci. Ok. Che... Che ti diciamo? Come hai ragione voi? O che è il riconoscimento faccio? O che è il riconoscimento faccio? O che è il riconoscimento faccio? il tuo corso di inquire, solo allora vedrai proprio quanto riguarda i vostri problemi veramente. Cosa stai parlando? Hai chiesto una riddle personali, in una città di più grande misteri. La strada comunale è la tua connessione a Elisabetta Subic. Ma che è quella connessione? Non potrebbe essere mia madre se si vivi anni fa. Non conosciamo ancora la connessione. Non c'è nulla. L'unico modo di capire è di continuare, di continuare a creare le scopi. Grazie a te, abbiamo apprezzato solo che i roboti ferali a scoprire la vita sulla Terra. Ma non è successo. L'civilizzazione di vecchia è morta, ma la vita... la vita è salvata. Obviamente. Quindi... Cosa farebbe? Cosa farebbe? Cosa farebbe? Cosa farebbe? Cosa farebbe? Per quello che siöno, questa è una domanda. Cosa farebbe? Cosa farebbe? Cosa è pure come? Gli per dividedolenza? Certamente, cici due a provarti a veramente cui la Gospel di risposta. Cosa tutti ancora costa? Noi? Cos'è la hundreds bussata? Cosa farebbe? Cosa. Cosa, e tanto corpo. i hanno salatu travi carne�ivo. Is there any chance that Elizabeth Sobeck could still be alive somehow? It's highly unlikely, but not impossible. Some of the ancient data I've recovered includes mentions of life extension techniques. Pharmaceuticals, mostly. An ancient word for medicine. But some were still trying to perfect ways of freezing and unfreezing people. Freezing and unfreezing people? Cryogenics, they called it. But there were problems with it. Given Elizabeth's technological acumen, I can't definitively rule out that she found a way to make herself immortal. But this is speculation. Wasting time. Now, if Vex enough talking, be on your way. Oh no. I'm just getting started. You've been getting a free ride on my focus, risking nothing while I risk everything. All I have to do is take this thing off my head. And you'll be blind, deaf, and dumb. So quit complaining and answer my questions. Very well. Proceed. Oh, Angela, stancano. Forse mi vedete un po' le occhiaie perché con gli occhiali mi si formano un po'. Allora. And let's move on to the focus. You've been using my focus to spy on me. How is that possible? Every focus emits a signal, a voice, that only other focuses can hear. I know how to string those voices together, how to make them talk to each other, to communicate, even over vast distances. How do you learn to do that? Years of study and experimentation. In principle, it's not so different from how you override machines. I override focuses. And you can spy through other eclipses focuses too. Usually. All I'll say is that overriding the connections is... complicated. Daniela. Beh, capita, Alan. Sì, sono un po' concentrata perché sto cercando di capire bene la storia, di fare qualche supposizione pure, perché comunque fino alla fine non credo che ci tirano tutto. Certo. Certo. Who are you, Silence? And what are your intentions? You really need to make this... personal? I'm a lone wanderer who left his tribe behind a long time ago. An explorer of forbidden places, a searcher of lost knowledge. Exactly as I said. Why do you know so much about the eclipse? I happen to know a lot about a lot of things. If what you're really asking is whether I work for the eclipse or anyone else, I don't. I am nothing if not independent. Eh? You said you've known for some time that farrow war machines destroyed the civilization of the old ones. The evidence pointed that way. But until now, I never need the full scope of their danger. That they could process organic matter into fuel, or that the Horus class could manufacture more robots. Like a cauldron on legs. But the robots we've seen so far, the Corrupters and Deathbringers, they don't do those things. Not yet, anyway. So far, we haven't encountered any that are undamaged. At full power, who knows what they're capable of? So far as I can tell, the eclipse are just following orders. It's Hades who wants me dead. Who is he? I don't know. The eclipse describe him as a buried shadow, some kind of devil. That thing that spoke to me outside, that made that focus explode. That was Hades. It... It didn't seem like a person or a machine. More like a phantom. With a terrible voice. All that's certain is that he wants you dead. Because of my connection to Elizabeth. Has to be. Hades is using the eclipse to resurrect feral robots. But if Elizabeth found a way to stop them centuries ago, if she made special weapons, maybe Hades is worried I'll do the same thing. In some of the ancient data I've recovered, there are hints of so-called super weapons being developed. Maybe to stop the robots, the civilization of the old ones had to destroy itself. Elizabeth told Ted Faro she was headed for a place called U.S. Robot Command to tell people about Zero Dawn. The place still exists. It's a ruin. The Aseram call it the Grave Horde. Grave Horde? Cherry name. You'll find it in the eastern mountains, buried under the tangled coils of a metal devil or a BOR-7 Horus, rather, as we're learning to call them. I'll contact you when you get there. I can't wait. Someday we'll meet in person and your manners had better be improved. Well, getting down will be a lot faster than getting up here at least. U.S. Robot Command next to learn the secrets of Zero Dawn. Dovevamo scendere di qua, non mi pare che si potesse calare da fuori, no? Dovevo guardare meglio, forse. Cazzo. Ciii! Eh, lo so che è tardi. e infatti voglio trovare un punto di salvataggio in modo da... da poter andare. Ti facciamo così. La mia missione... Dov'è? Raggiungi il tumore. Un po' dall'altra parte. Eh, perlomeno dobbiamo andare nell'altra... la zona di... quindi... quasi quasi tornerei a meridiana. Salvo qua. Eh, che è successo? Eh, stacchiamo qua. Sì.